Massimo Calabrese, gli ultimi due risultati del Taranto hanno riproposto ciò che accade praticamente da tre anni a questa parte con i rosso-blu lontani dal sogno promozione, con i play-off da giocare ma soprattutto con degli attriti tra società e tifosi. Non credo che la colpa dei fallimenti che ci sono stati quest'anno, quest'anno possono essere attribuiti alla curva come si suol dire in questi ultimi giorni che la colpa è sempre la loro. Alla fine se la squadra va bene la curva si riempie in città, chiaramente poi se i risultati non avvengono. Ci sono degli attriti alla fine da condannare sicuramente i gesti che si sono stati a Marcianise però alla fine da attribuire un fallimento stagionale alla curva mi sembra un pochettino eccessivo. Come giustifichi l'ivoluzione della squadra nelle ultime due gare? Di solito chi insegue fa più fatica, nel senso che non bisogna mai sbagliare come poi è accaduto al Taranto invece chi è davanti si può permettere delle pause oppure degli stop inaspettati come è successo al Francavilla. Non me lo aspettavo sinceramente questa tra virgolette flessione che c'è stata anche perché recuperare dieci punti nell'arco di due mesi o hai una squadra tra virgolette di fenomeni oppure c'è coesione in tutti gli ambiti, società, squadra, tifosi e staff altrimenti qualche qualcosina qualcosina la paghi. Nella stagione rosso-blu le note liete arrivano dal settore giovanile? No, il settore giovanile ma già dall'anno scorso c'era una buona base specialmente sugli allievi dell'anno scorso dove si è andata ad incidere anche quest'anno con degli innesti e in più c'è stato l'ottimo lavoro di Fabio che ho fatto benissimo anche giocando con ragazzi sotto età e valorizzando un pochettino il settore giovanile altra nota positiva il lavoro che ha fatto Salvatore del Vecchio con i giovanissimi l'unica nota tra virgolette un pochettino negativa è la formazione degli allievi però so benissimo che fare selezioni su un pochissimo materiale umano è difficile due formazioni su tre che vanno alle finali è un ottimo risultato. Parliamo del Martina, salvezza possibile? Bisogna vedere con chi viene accoppiato nei play-out speranze ce ne sono se viene accoppiata con il Melfi perché bene o male hanno una squadra diciamo quasi se la giocano però se viene accoppiata con Monopoli, Catanzaro e eventualmente il Catania credo che anche il Blasone o il Bacino di Utenza possa fare la differenza Straordinaria invece la stagione del settore giovanile bianco-azzurro del responsabile Pier Giuseppe Sapi Pier Giuseppe sono tre anni che fa un ottimo lavoro e quest'anno ha fatto l'esploat classificando primo posto gli allievi e si vanno a fare un ottavo di finale credo contro il Patova e i giovanessimi un ottimo risultato anche per i ragazzi di Enzo Muriani che ha fatto terzo posto con formazioni che fanno anche Serie A e Serie B il lavoro che sta svolgendo Pier Giuseppe è un lavoro non ottimo di più alla fine se andiamo a vedere un attimino i dati forse è l'unico settore giovanile in Puglia a livello professionista per la fine se andiamo a vedere un attimino i dati